eccoci qui buongiorno buon pomeriggio a tutte io sono erena e lavoro per unique in italia e invece io sono valentina e lavoro anch'io per unique siamo qui oggi per parlarvi dei vantaggi dell'attività di unique sono numerosi e lo sappiamo se avete avuto occasione di vedere altri video lo sapete anche voi ma tra tanti oggi vediamo come l'attività unique sia proprio fatta per chiunque chiunque può essere la scelta unique può essere la scelta giusta per qualsiasi tipo di persona ma anche di qualunque età per hobby per passione verso il make up per spirito imprenditoriale ognuno trova il suo motivo e il suo scopo in unique vero valentina assolutamente infatti e diciamo per entrare a far parte di unique non non è necessario avere dei requisiti particolari o d'essere professionisti nel settore beauty oppure avere già avuto esperienze in passato nell'ambito del network marketing l'attività di unique è aperta davvero a chiunque quello che chiediamo è solo passione per il mondo beauty positività e un po voglia di imparare qualcosa di nuovo vero esattissimo unique offre alle consulenti tutto ciò che serve per acquisire la competenza necessaria per dare i giusti consigli sul trucco e sulla cura della pelle e anche per utilizzare al meglio i canali social penso che la formazione offerta da unique non abbia paragoni nel mondo della vendita diretta infatti infatti non a caso le incaricate alle vendite italiane per le caricate alle vendite italiane abbiamo scelto il nome di consulente appunto perché vogliamo che i clienti ricorrono loro per avere consigli per risolvere una loro richiesta particolare o un'eventuale problematica certo ma qui dobbiamo ricordare che la prima formazione viene però dall'esperienza diretta si propone di solito un prodotto che si conosce ecco perché con la registrazione arriva il kit consulente unique perché è importante partire con una base prodotti che porta alla conoscenza e quindi alla competenza è veramente un kit di alto valore perché è il valore che hanno i nostri prodotti chi entra unique fa un investimento unique ma unique fa un investimento su tutte le persone che entrano a far parte di questa azienda poi ovviamente noi da un punto di vista aziendale aggiungiamo tutto quello che vi serve assolutamente assolutamente inoltre unique pensate è un'azienda digitalmente all'avanguardia sempre al passo con gli ultimi trend essendo appunto principalmente un business di social selling ovvero di promozione dei prodotti tramite i canali social non solo forniamo alle consulenti un e shop personalizzato e gratuito al momento appunto della registrazione un ufficio virtuale in cui appunto un'area dedicata in cui possono andare a seguire dei training in cui possono andare anche a seguire proprio i loro progressi come consulente e al proposito appunto c'è il centro di formazione online sempre aggiornato ci sono guide training sia per le nuove consulenti che per quelle consolidate gruppi facebook dedicati dedicati sia a coloro che sono appena entrati in uni che appunto e con loro le guidiamo in un percorso di cosiddetto onboarding quindi di accoglienza e di di benvenuto nel nel mondo e in modo tale da dare loro tutte le informazioni necessarie per crescere con noi ma anche i gruppi facebook per per chi ha desidera crescere quindi anche con formazione mirata con testimonianze stesse da parte di leader o altri consulenti che hanno aggiunto determinati obiettivi ma siamo anche attenti anche alla proposta digitale verso il cliente da qui strumenti come la beauty guide che consente per esempio di provare i nostri prodotti e scegliere una nuova tonalità di rossetta ancora prima di averla acquistata oppure l'ultima novità regente è quella dei reward link è un sistema di link di affiliazione che permette la condivisione di questi link renderizzati a pagine del nostro sito in cui le clienti possono anche guadagnare credito prodotti ovviamente anche le consulenti certo in definitiva unique è la vostra risposta se cercate qualcosa di nuovo qualcosa di innovativo e che può essere vostro ma soprattutto e qui concludiamo ricordiamo che la decisione di cogliere l'opportunità unique ha un impatto immediato ogni singolo prodotto promosso acquistato può aiutare una persona ad avere maggiore autostima a credere maggiormente in se stessa e così a influenzare tutti coloro che hanno intorno contattate una consulente di vostra conoscenza magari chi vi ha mostrato questo video per avere più informazioni oppure potete rivolgervi direttamente al nostro sito www.uniqueproducts.com io e Valentina vi aspettiamo nella unique family quindi non vediamo l'ora che voi vi uniate a noi è tutto per oggi Valentina non dobbiamo aggiungere altro? no vi aspettiamo solamente nel nostro mondo viola con tutte le novità che abbiamo per voi e tutti gli strumenti appunto e la formazione che che mettiamo a vostra disposizione speriamo che questo video vi sia piaciuto buona giornata ciao a tutte grazie a tutti